Buongiorno, buongiorno e bentornati in questa edizione di Mattino 6. In questo martedì 16 maggio 2017 pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani locali e anche le prime pagine delle testate nazionali e anche a rivedere alcuni dei servizi preparati ieri dalla redazione del TG6. Iniziamo subito con le quattro edizioni del centro, poi vedremo le prime pagine del messaggero della città e del quotidiano della provincia di Teramo. Siamo sul centro edizione dell'Aquila, priorità PD, sicurezza nelle scuole, elezioni all'Aquila i DEM presentano programma e lista, gestione privata del Gran Sasso. E poi al centro la fotonotizia, bimbi malati un mese per i fondi, Noemi e gli altri, finalmente una buona notizia. Poi ancora bonus nascite, 2000 domande in Abruzzo, Cresa ce la ripresina, più lavoro ma più precarietà. E poi di spalla l'inchiesta sull'hotel Rigopiano, carta valanghe mai fatta, sequestri in regione. E poi ancora ad Avezzano le richieste dei negozianti ai candidati, sul Mona Lavoratori Coop, occupazione a oltranza. In basso l'Aquila, la rinascita dallo sport, la città sogna con le due finali, calcio e rugby, cresce l'attesa per il doppio confronto. E per il ciclismo, Giro d'Italia, Francavilla in corsa dopo il blockhouse. L'edizione del centro di Chieti Lanciano Vasto, la ASL affossa il nuovo ospedale, questo è il titolo d'apertura. Il manager Flacco consegna ai vertici regionali i pareri contrari e sceglie il silenzio. E poi a Lanciano ZTL multati, 4 mila residenti, in 5 mesi a San Salvo a 14 si schianta, poi sviene dal gommista. In basso al via le elezioni oggi per il nuovo rettore, sfida 6 se nessuno ha la maggioranza. Si rivota domani. E andiamo con l'edizione di Teramo. L'apertura, un odore forte e sconosciuto. Emergenza acqua, così l'Arta spiega le ragioni del divieto. Negative anche le analisi di Padova. E poi ancora l'assemblea, bilancio ok per la BCC di Castiglione. A Giulianova, nuovo attacco del PD a Mastromauro. In basso la sentenza di Famò, il sindaco condannato, un blogger ritenuto responsabile di frasi offensive. L'edizione di Pescara, il direttore di Attiva, indagato per truffa, ex dipendente, denuncia del Bianco. Ho chiesto un prestito e mi ha fatto licenziare. E poi ancora un paio di richiami. A Pescara, trovato morto a 51 anni in via Tiburtina. A Spoltore, schiacciato dal termosifone bimbo ferito. E poi in basso, viaggio nella città che non funziona, Pescara non è a misura di turista. Non esiste un infopoint, sarà attivato solo per i bersaglieri. La prima pagina del messaggero Abruzzo. L'apertura dedicata all'inchiesta sull'hotel Rigopiano. Rigopiano, regione nel mirino. Blitz dei carabinieri per acquisire gli atti della carta del pericolo valanghe. Si apre un nuovo fronte dopo i primi avvisi di garanzia esposto dei legali del sindaco Lacchetta. Sotto la testata, tre richiami. Ricette anticrisi, Pescara, il boom delle pizzerie, storia di rivalità e segreti. Elezioni, l'Aquila parte la campagna. Tutte ammesse le liste, sempre per le elezioni, ma questa volta per quanto riguarda il rettore dell'Università d'Annunzio. Si vota anche la d'Annunzio. È corsa sei per il rettorato, oltre mille gli elettori. Urne aperte dalle 8.30 per la scelta del nuovo rettore. Alla vigilia la notizia dell'assoluzione dell'ex direttore generale. E poi di spalla, cyberbullismo, mia figlia ammazzata da 2.600 like. Un papà in campo a sostegno della legge Paolo Picchio a Lanciano. La foto notizia per lo sport all'Aquila. Aria di promozioni, rugby e calcio, che delirio. E poi in taglio medio, acqua vince la diffidenza. A Teramo nessuno la beve. Ignorate le rassicurazioni sulla potabilità. Venerdì un nuovo vertice. E poi a Pescara scacco alla banda dei Rolex. In basso, aeroporto, bilancio ok. La prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura, l'uomo dell'acqua ha detto sì per l'Olli, nessun rischio per le captazioni del ruzzo. Se si eseguono i lavori di messa in sicurezza. Sotto la testata, Brucchi, la ciclovia alternativa alla funivia. Ce l'hanno bocciata. È la replica del primo cittadino sui 10 milioni del Masterplan. E poi mercato coperto. L'Azù apre la nuova mensa solidale. Abbiamo anche l'editoriale del direttore Alessandro Misson. luci ed ombre per il ruzzo. E quindi al centro la fotonotizia. I progetti, le prime captazioni degli anni 20. Dossier ruzzo. Di spalla la crisi a Teramo. Tancredi ai dissidenti. Dietro le loro richieste. Solo biechi interessi personali. La BCC leader sceglie la riforma con Icrea. Castiglione, Messerri, Mondo e Pianella conferma ottimi conti e governance. In basso Giulianova, Lalite su Giulia, eventi in consiglio. E per lo sport, Lega Pro, play out. E poi il futuro col San Nicolò. 12 giorni indiavolati per il Teramo. Possiamo lasciare momentanamente i quotidiani abruzzesi. Andiamo a fare una panoramica ora di quelle che sono le prime pagine delle testate nazionali. Partendo dal Corriere della Sera. Migranti, sentenza sui doveri. La Cassazione dice che gli stranieri hanno l'obbligo di conformarsi ai nostri valori. Un indiano non potrà portare il pugnale sacro. Sicurezza da garantire prima di tutto. E poi gli USA accusano in Siria l'orrore dei forni crematori. Da Trump, detti dei segreti ai russi. L'editoriale di Ernesto Galli della Loggia. Francia e non solo la politica costruita sui soldi. La prima pagina di Repubblica, eccola qui. La Cassazione sui migranti si conformino ai nostri valori. Lega e destra parlano di sentenza storica. I Vescovi non va strumentalizzata. Inchiesta sul cara di Capo Rizzuto. Le mani dei boss sull'accoglienza. Di spalla, progetto Cina, nuovo motore del mondo. Mentre l'America di Trump chiude le frontiere. Pechino diventa il fiere della globalizzazione. In taglio medio, Trump sotto accusa. Ha rivelato informazioni top secret ai russi. Gli USA denunciano le atrocità di Assad. Forni crematori in Siria. Sempre la politica estera. Nasce l'asse Macron-Merkel. Più investimenti per l'Europa. I trattati possono cambiare. La prima pagina del messaggero. Ecco l'apertura. Sempre col medesimo tema. I migranti seguono i nostri valori. Sempre relativamente alla sentenza della Cassazione. Che dice che devono uniformarsi alle regole del paese in cui vivono. Multato un indiano. Poi la vicenda del cara di Capo Rizzuto. Tra i 68 arrestati. Anche un parroco. Ecco il bancomat della Ndrangheta. Poi ancora la fotonotizia al centro. Macron-Merkel svolta sui trattati dell'Unione Europea. Premier francese. Un sindaco di destra. E poi ancora in taglio medio stretta sul bollo auto. Così pagheranno tutti. Addio alle monetine. Manovra tassa legata alla revisione dei veicoli. Spariranno i pezzi da 1,2 centesimi. Avanti ancora con la stampa. I fondi dei migranti dirottati in Svizzera dall'Anddrangheta. Al cara in Calabria. 68 arresti era il bancomat delle cosche. E poi la fotonotizia. Il Dipartimento di Stato mostra foto satellitari e accusa a Damasco. Il dossier degli Stati Uniti contro Assad brucia i prigionieri uccisi. La prima pagina di Libero. Libero rissa tra camice verdi. Smettetela. Nella Lega si sbrano. Questo è il titolo d'apertura. Bossi minaccia di uscire dal partito per unirsi al Cavaliere. Salvini ha in pugno la maggioranza. Ma il Carroccio ha bisogno di unità. Altrimenti perderà sempre. Il segretario ha Libero. Chi mi ha insultato se ne vada. Berlusconi sfotte Macron. Ha una bella mamma e ferma Umberto. Sta bene. Dove? Poi al centro leggiamo la cultura di Scalfari e la coda del cane. E poi taglio medio. Immigrato. Vuoi stare qui? Fai l'italiano. Sentenza sacrosanta. Chi arriva deve conformarsi. Ciao Boldrini. La prima pagina dell'unità. Senza misericordia. Cosche. Le mani sul cara. Cibo per maiali. Agli immigrati. Con l'aiuto di confraternite e prete. Affari sui migranti. Il centro di Crotone in mano all'Andrangheta. Accaparrati 36 milioni su 103 dei fondi europei. La mafia lavora a Milano. Il clan dei Laudani controllava la vigilanza del tribunale. I centri direzionali Lidl per 200 punti vendita. La prima pagina del tempo. Calma piatta. C'è il G7. Arrivano i potenti in Sicilia. Stop agli sbarchi degli immigrati. E c'è chi faceva affari. 68 arresti. Ecco le intercettazioni. Poi oggi il confronto in commissione. Ex deputati in rivolta contro i tagli. Il giornale. Scandalo accoglienza. Dai frutta marcia ai negri. Scoppia profugopoli. Migranti. Affari di clan e confraternite. 60 arresti. C'è pure un prete. Ha fermato anche l'imprenditore amico di Alfano. Poi Renzi. Berlusconi. Il risico sulla legge elettorale per la politica italiana. Un articolo scritto da Augusto Minzolini. E poi in basso. Svolta sugli spiccioli. Il governo dichiara guerra alle monete da 1,2 centesimi. Ora bisogna abolirle. La prima pagina del mattino. Migranti. L'affare delle cosche. I fondi per il cara di capo Rizzuto. L'Andrangheta ha arrestato anche un prete. Il secolo XIX. Le mani delle cosche sui rifugiati. Della Calabria. 32 milioni in Svizzera. Anche un paroco tra i 68 arrestati. Poi avvenire. Medesimo tema in apertura. Le mani delle mafie. Il cara di Crotone dominato dall'Andrangheta. I clan a Milano. Infiltrano la Lidl e il tribunale. E poi il dubbio. Consip. Beffa del fatto. Sospettato di essere la talpa. Intercettazione. Gaglioffa. In guai a un giornalista. Renzi. Voglio tutta la verità. Il gazzettino. I migranti rispettino i nostri valori. Poi ancora la gazzetta del mezzogiorno. Migranti. Fate gli italiani. E poi la verità. Tutto vero. L'invasione è un affare. Soldi in nero. Il PM. I migranti sono il bancomat della mafia. 68 arrestati. Incluso un prete nel più grande centro d'accoglienza d'Europa. E diretto da un amico di Alfano. Possiamo lasciare le testate nazionali. Possiamo tornare a quelle locali. Andando a sfogliare le pagine del centro. Iniziando la pagina 2 e 3. Regione e assistenza. Noemi e gli altri. Finalmente esiste una buona notizia. Il papà della bimba affetta da una patologia rara. Incontra gli assessori Paolucci e Sclocco. Che si impegnano a trovare fondi. E per tutte le famiglie. Con lo stesso dramma. Entro un mese. La soddisfazione di Andrea Sciarretta. Portavoce degli altri genitori. E tutto in un commento finale. Abbiamo fiducia. Sono 130 i piccoli che chiedono aiuto. E poi che cos'è l'asma 1? Malattia terribile. Una onlus aiuta la ricerca. In bilancio però, scrive il centro a pagina 3, neanche un euro. È una legge senza copertura. Le tappe che hanno portato all'incontro di ieri. Tutto parte da un bacio che Papa Francesco dà alla bimba di Guardia Grele. La scena commuove l'Italia. Nel 2015 la Regione annuncia aiuti per 200 mila euro. Che però si riducono. Nella fine servono a dare una mano solo a nove famiglie. Ma il numero è molto più alto. Nel 2016 parte il secondo bando. I genitori che ricevono i fondi salgono a 20 per ciascuno 840 euro al mese. Ma quest'anno non ci sono prospettive. Almeno fino a ieri. E poi ancora Regione e giustizia. Siamo a pagina 5. Mappa mai fatta. Sequestri negli uffici. Rigopiano, nuovo fronte di indagine per disastro colposo. Una legge del 92 introdusse l'obbligo del piano Slavine. Mai arrivato. Acquisito anche il catastro delle Slavine. 10 valanghe della zona di Rigopiano tra il 1999 e il 2005. E poi di spalla domani a San Pietro i parenti delle vittime da Papa Francesco. In taglio basso il sindaco di Farindola denuncia lente. I difensori disastro valanghevo doloso. Abbiamo le prove ma si rivolgono alla procura dell'Aquila. Disattesa la legge che imponeva all'ente di dotarsi di una carta dei pericoli. In un dossier tutti gli studi degli esperti che dimostrano come la tragedia si potesse evitare. Andiamo nelle pagine della regione Abruzzo. Pagina 10. Dossier delle Camere di Commercio. Ecco la ripresina. Più lavoro, più precari. I dati cresa del quarto trimestre del 2016. Bene anche la piccola industria. Ma la fiducia degli imprenditori non cresce. È difficile la situazione del commercio con calo sensibile del fatturato. Artigianato in sofferenza. Aeroporto d'Abruzzo. Saga in crescita per il secondo anno. Le parole del presidente Mattoscio. Positivo il recupero del rapporto con Ryanair. E poi in basso il centro agroalimentare. Torna inutile. Superata la fase liquidatoria per la Valle della Pescara. Le parole dell'assessore regionale Pepe. Ora pensiamo ad un progetto di sviluppo. E allora vediamo la conferenza realizzata ieri nel palazzo della regione Pescara. Con le parole proprio dell'assessore regionale Dino Pepe sul centro agroalimentare. Assessore Pepe si parla oggi in conferenza stampa del centro agroalimentare della Valle del Pescara. Ci sono delle importanti novità. Sì, nel 2014 quando la giunta d'Affonso si è insediata la società era in liquidazione. Dopo due anni di risanamento il bilancio 2016 è stato chiuso addirittura con un utile di 5.000 euro. Io voglio ringraziare il consiglio di amministrazione, i professionisti che si sono messi in campo per portare avanti questa azione di risanamento. Ma insieme a loro i grossisti, gli operatori di quell'area così importante per l'agricoltura abruzzese e per il commercio ortofrutticolo abruzzese. Grazie anche a questi risultati le prospettive ora sono sicuramente interessanti. Ma io penso che quel mercato possa svolgere un ruolo importante non solo per la Valle della Pescara, non solo per l'Abruzzo ma io penso per l'Adriatico. Un hub fondamentale per dare un futuro importante ai nostri prodotti agricoli e in particolar modo all'ortofrutta abruzzese. Lì operano sia grossisti, sia dettaglianti, sia agricoltori. Vorremmo che quelli diventassero una comunità importante al servizio dell'agricoltura abruzzese. Sin dal vostro insediamento come giunta regionale avevate puntato fortemente sul rilancio di questa struttura? Sì, sono stati due anni molto impegnativi. Siamo usciti innanzitutto dalla liquidazione. La società è stata portata in bonus e poi dopo una serie di interventi con il Comune, con l'erario, con le banche, con i fornitori, attualmente abbiamo un'azione assolutamente sostenibile. Abbiamo ripreso tanti servizi che prima erano in capo ad altre società e attualmente abbiamo impiegato nove persone. Torniamo sul centro che stiamo leggendo attraverso la rinnovata app. Premio alla nascita, 2.000 domande. Sono quelle presentate in Abruzzo su 87.000 in Italia e dentro il 18 arriva il bonus da 1.000 euro per i nidi. Andiamo ora nelle pagine della cronaca di Pescara. Ciclisti a rischio, traffico e buche in strada. Quanti pericoli per le bici. La denuncia di Di Russo della FIAB a Pescara è impossibile spostarsi in sicurezza. E poi ancora accoglienze in città, uffici, informazioni inesistenti per i turisti, segnaletica carente per il raduno dei bersaglieri, un infopoint in piazza Salotto. Cuzzi sarà riattivata anche la sede vicino alla stazione. Poi ancora la vicenda, gli sviluppi nelle ultime ore per quanto riguarda Attiva, l'azienda che pulisce la città di Pescara. Il direttore indagato per truffa sotto accusa dopo la denuncia di un dipendente che l'ha registrato. Chiedevo un prestito e mi ha fatto licenziare. Poi la replica di Del Bianco, voleva andare via, soluzione concordata insieme, sottoscritta davanti ai sindacati. In taglio medio, Via Prati ha senso unico alternato, tre settimane di lavori, cantiere fino alla bretella, colli della circonvallazione. E poi BCC di Castiglione e Pianella, sì al bilancio, il patrimonio supera i 65 milioni di euro, resta inalterato il CDA, votata l'adesione a ICREA come capogruppo. Eravamo presenti all'assemblea dei soci con la troupe di Vestina News. Vediamo. Il direttore della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione, Messere, Mondo e Pianella, Simone Di Giampaolo. Questo è il primo bilancio della Banca di Credito Cooperativo dopo la fusione con la BCC di Teramo. Anche il 2016 è stato un anno impegnativo e difficile, proprio sia perché la Banca di Credito Cooperativo ha affrontato l'importante operazione di incorporazione della BCC di Teramo, sia perché l'economia locale continua a risentire di una forte crisi. La fusione con Teramo non è stata una limitazione, ma è stata comunque un'operazione epocale per la storia della nostra banca. Il bilancio 2016 ha conseguito comunque ottimi e importanti risultati. Prima di tutto è arrivato il patrimonio ad un 65 milioni di euro e questo corrisponde a un indice patrimoniale del 18%. I 2 milioni di utile netto hanno lasciato spazio a accantonamenti per 13 milioni. Infatti l'utile lordo era di 15 milioni. 13 li abbiamo destinati ad accantonamenti per il rischio di credito, rafforzando le coperture sia sulle sofferenze. Abbiamo portato le coperture dal 52, che già era importantissimo, al 58%. Abbiamo rafforzato le coperture sulle inadempienze fino al 27% e per la prima volta abbiamo coperto anche i crediti scaduti, pare il 10%. Un punto importante, come dicevamo, è il rinnovo di queste cariche. Come ho detto, purtroppo in questo momento ci sta una fase di transizione che è data sia dalla riforma del credito cooperativo, sia che quest'anno abbiamo avuto questa fusione per integrazione della BCC di Terra. Quindi abbiamo ritenuto mantenere gli organi che ci sono per poter far sì che in questo triennio si possa preparare una nuova generazione di soci e poter entrare nel Consiglio di Amministrazione. Andiamo a pagina 17, sempre per la cronaca, Giallo Invieti-Burtina, trovato morto nella casa della droga. Non si esclude l'overdose, ma l'uomo, 51 anni di Pescara, ha il volto tumefatto, disposta l'autopsia per far luce sulle cause. In taglio medio strappano il Rolex a un anziano in quattro acciuffati dalla polizia. E poi ancora l'inchiesta sull'edificio pagato 2,8 milioni, Palazzo d'Oro, la Procura, secondo la Procura, danneggiate Asl e Regione. L'accusa individua le parti offese, oggi udienza preliminare per Damario e altri tre indagati. Il direttore dell'azienda Mancini dà l'ordine di costituirsi parte civile e chiedere i danni. In basso e di soccorso il servizio resta alla INAER, il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva presentata dalla seconda in graduatoria. E poi ancora a scuola di solidarietà, gli studenti del Ravasco servono i pasti ai bisognosi. I ragazzi della classe terza, protagonisti dell'iniziativa Incontri con la Caritas, hanno lavorato alla mensa, pulito sala e stoviglie sistemato. Il piazzale, in basso, nell'ambito del progetto educazione alla legalità, Morosini parla di mafia e coraggio. Il giudice incontra in provincia i ragazzi dell'alberghiero De Cecco. Siamo nell'area metropolitana, municipalizzate debiti, oggi vertice dal prefetto, a Sino Nido al buio. Scuolabus fermi, esplode la condizione fallimentare della SGT Multiservizi con le dimissioni dell'amministratore Ialonardi. Tutto questo a San Giovanni Teatino. E avanti ancora con le pagine di Montesilvano. Ancora il tema dell'immigrazione in primo piano, nuove barricate. No, emporio solidale e mensa dei poveri. Su Corso Umberto, dopo le proteste in via Firenze, anche i residenti di Santa Filomena insorgono contro il progetto della giunta Maragno. E poi di spalla la madre del 24enne, morto all'ex colonia Stella Maris. Ho tentato di aiutare mio figlio, ma siamo stati lasciati soli. In basso raccolta fondi contro la distrofia muscolare, festa dello sport e solidarietà con il trofeo Squilla Mantis. 4.000 euro devoluti al Wildem. Poi avanti, schiacciato dal termosifone, ferito bimbo di 14 mesi, incidenti in casa da Spoltore. Il piccolo aggrappato all'impianto appeso alla parete, ha riportato traumi e fratture. È stato ricoverato all'ospedale di Pescara. E poi ancora a Montesilvano, rifiuti e tutela ambientale, multe per 2.300 euro in un mese con le fototrappole. In Val Pescara, Popoli, scuole sicure, ecco i fondi per ammodernare l'Ipsia a Popoli. 254.000 euro dalla regione per completare il piano di ristrutturazione. I lavoratori dell'istituto sono stati compromessi dal terremoto aquilano del 2009. Appenne invece 1.000 dipendenti di Brioni al voto per la nuova RSU. Pagine di Chieti, L'Aquila e Teramo per andare a chiudere la prima parte di mattino 6. Nella pagina di Chieti si parla appunto delle elezioni del nuovo rettore all'Università d'Annunzio. Urne aperte, sfida a 6 appunto per il rettore. Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza assoluta, si torna al voto domani. Capasso a fondo sulla discontinuità. Ecco qui, Sergio Caputi, Luigi Capasso, Rino Stuppia, Stefano Trinchese, Paolo Fusero e Michele Rea. E' tra loro la sfida per essere il nuovo rettore. Intanto del vecchio assolto non diffamò i 113 dipendenti. In basso la Asla fosse il nuovo ospedale. Il manager Flacco consegna alla regione i pareri contrari e si chiude nel silenzio. Pagina aquilana. Ma siamo a Sulmona. La difesa del lavoro, occupazione a oltranza del comune, mobilitazione dei dipendenti, delle coop organizzate in turni nell'aula consigliare. E c'è chi va a trovarli portando dolci e caffè. I sindacati dicono da mesi aspettiamo una soluzione che continua a non arrivare. Vogliamo risposte. In basso la Molinari, la nota cantante aquilana, canta con i diversamente abili diritti nell'handicap. Saggio finale nell'associazione che ha invitato tutti i candidati a sindaco. La pagina di Terramo, che in realtà è una doppia pagina, il caso del Gran Sasso, l'arta, il cattivo odore dell'acqua sentito da tutti i nostri tecnici. La direttrice Lena ricostruisce come è nato l'allarme. In questi casi intervengono più operatori. È raro rilevare certi problemi. Quel fetore non era riconducibile a sostanze conosciute. E poi buone anche le analisi di Padova. Ulteriore conferma che dal 9 maggio quella che sgorga dai rubinetti si può bere. I sindaci incontrano l'olio sulla sicurezza. Venerdì l'iniziativa è indetta dalla provincia. Intanto scendono in campo Arco e Feder Consumatori. E c'è poi la mossa della ASL al via la verifica disciplinare sull'operato della dirigente. La direzione sanitaria inizia la procedura contestato a Maddalena Marconi di aver ordinato lo scarico delle acque del traforo senza avvertire nessuno. E poi in basso diffama un sindaco blogger condannato sotto accusa un posto su www.colledara.com. Il giudice gestore responsabile dei commenti anonimi. Noi ci fermiamo con le pagine della cronaca del centro per quanto riguarda la prima parte di mattino 6. Spazio ora alle previsioni del tempo, alla pubblicità e poi rientriamo con il messaggero Abruzzo e con la città. A tra poco. Di nuovo buongiorno alla seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con il messaggero Abruzzo e riprendiamo subito anche con un servizio realizzato dalla nostra redazione e che introduciamo proprio con questo articolo. Saga bilancio in attivo ma ora servirà almeno un milione di passeggeri. Per non tornare ai numeri da profondo rosso la sfida resta l'autonomia di gestione. Dalla regione 14 milioni da qui al 2020. Messa in campo un'altra manovra tecnica, la patrimonializzazione attraverso la cessione di tutti i beni immobili. E allora vediamo il servizio realizzato dal TG6. Presidente Mattoscio, questa mattina in aeroporto a Pescara, assemblea dei soci della Saga. Numeri positivi per la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo? Sì, per il secondo anno consecutivo la Saga chiude il proprio esercizio con un utile, quest'anno di 252 mila euro circa, che denota non solo la buona amministrazione sotto il profilo generale, ma anche la capacità di aver saputo rivisitare ogni elemento di costo, ogni elemento di ricavo e anche il consolidamento di una strategia volta al potenziamento dell'aeroporto con l'obiettivo di potenziare i volumi di traffico. È stato importante, Presidente, in quest'anno di gestione evidentemente anche l'aver recuperato un rapporto di lavoro importante con la Ryanair. Assolutamente sì, abbiamo avuto due eventi straordinari durante l'esercizio 2016. Da una parte Alitalia che ha soppresso il volo navetta per Fiumicino, le ragioni poi le abbiamo capite un anno dopo, cioè la crisi di questa compagnia aerea è davvero grave. E dall'altra parte abbiamo avuto questa avvertenza, tra virgolette, sul tema Ryanair in conseguenza di un incremento delle cosiddette tariffe aeroportuali a titolo di imposta, di tassazione comunale, diciamo così. Ecco, tutto questo è stato superato e adesso il legame, la parte Cipro Ryanair si è rinnovato consolidando il rapporto preesistente, quindi ribadendo un avvelivolo basato sul nostro aeroporto e aggiungendo anche due nuove destinazioni estere, una su Copenaghen e l'altra su Cracovia. Stamattina, Presidente, ha anche la nomina del nuovo collegio sindacale della Saga? Sì, è un avvicentamento del tutto ordinario. Il precedente collegio è giunto a scadenza e il rinnovo viene in virtù di nuove designazioni fatte dai due ministeri competenti, uno è quello dei trasporti, l'altro è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sempre sul messaggero novità nel sindacato dei giornalisti, perché il nuovo segretario, come leggiamo, è Adam Anzelevic. avanti con le pagine di Pescara, nel mirino la carta delle valanghe, blizzi in regione dei carabinieri forestali sequestrati, gli atti relativi alla mappa del pericolo incompiuta dal 1998. La mossa del PM Papalia apre un nuovo fronte dopo gli avvisi di garanzia a sindaco, tecnici e presidente della provincia. Svolta nelle indagini sulla strage dell'hotel, il nodo prevenzione sollevato dai parenti delle 29 vittime. Poi anche gli avvocati di Lacchetta, il sindaco di Farindola, all'attacco con un esposto sulla catena di omissioni. La banda del Rolex ora parla a romeno, arrestati dalla mobile due uomini e due donne dopo un colpo a Pescara, ripreso dalle telecamere, avevano spostato la base a Pineto. E poi in basso Ironman, Zanardi e la Ferrari per una grande edizione. Le novità dell'edizione 2017 presentate ieri dal presidente della Camera di Commercio, Daniele Becci. Vediamo il servizio realizzato dal TG6. Un altro grande appuntamento per l'estate pescarese. Arriva Ironman, un appuntamento ormai presidente Becci che è diventato canonico per la nostra città. Un appuntamento importante e di grande rilievo che vede protagonista anche la Camera di Commercio di Pescara. Sì, è una sinergia tra le pubbliche amministrazioni. Sicuramente il settimo anno di Ironman rappresenta per la nostra città un punto d'orgoglio. È l'unica tappa nazionale di Ironman, che è un evento ormai che ha riscontri internazionali di primissimo piano. A questo abbiamo abbinato un Ferrari Day, chiamiamolo così, presso il porto turistico, con la collaborazione del Ferrari Club di Atessa, che ha avuto l'incarico da parte di Maranello di organizzare questa specie di esposizione con simulatori di pit stop, di guida simulata, di Formula 1. Per cui sarà sicuramente per i più giovani, per i curiosi e per gli appassionati, un modo di conoscere questo mondo così affascinante come quello della Formula 1. A tutto questo è abbinato anche una tappa di Miss Italia, il che non guasta sicuramente perché Miss Italia sappiamo tutti essere una manifestazione storica del nostro Paese. Per cui siamo soddisfatti di aver trovato insieme all'amministrazione, insieme alla Fondazione Pescara Abruzzo, grazie per quanto riguarda il Ferrari Day all'importante collaborazione delle cantine Marramieno, una sinergia in cui la nostra città sarà un centro di attenzione, un veicolo e un motore economico, come è nelle finalità della Camera di Commercio. E ora avanti con l'articolo sulle dynasty della pizzetta, come titola il messaggero Abruzzo. Alla conquista del mondo, insegne storiche da Maruzella a Trieste, segreti di famiglia, rivalità, una storia pescarese, viaggio nel commercio che non conosce crisi, autentici imperi costruiti su un cibo simbolo. Farine biologiche, lievitazione lenta e un brand global, Riccardo Ciferni spiega le ragioni di un successo. E poi l'invenzione contesa della tonda fu una mia idea quando aprì la pizzeria Liceo, dice Ercole Calchi. Avanti con la cronaca, bimbo schiacciato dal termosifone, paura spoltore, il piccolo di 14 mesi si è ferito in casa, soccorso dalla madre, è ricoverato in ospedale, fuori pericolo, trasferita a Cesena la bambina di due anni, è rimasta ustionata e scivolata sull'acqua bollente, caduta da una pentola a pranzo. Sul doppio incidente domestico, indagano i carabinieri, preoccupano le estese bruciature. E poi ancora da treni e binari, troppo rumore, RFI citata per danni. A Francavilla una residente esasperata si è rivolta all'avvocato Ruggeri del Codaconza. Appenne le parole del sindaco Semproni, tanti problemi, ma via ai lavori all'ospedale. Il sindaco fa il punto dopo il primo anno di mandato, crisi e sisma, le emergenze. Pagine dell'Aquila, tutte ammesse le liste, presentate fuori due candidati al Consiglio. Sorti problemi con i certificati elettorali, l'esercito degli esperanti si riduce a 756. Il sorteggio dell'ordine sulla scheda disegna quasi la griglia dei favoriti. La commissione circondariale ha completato l'esame della documentazione degli schienamenti. E poi in basso PD tra Pelini e Berlusconi. Siamo forti e rappresentativi. Vediamo a tal proposito il servizio della nostra redazione aquilana. Una lista di giovani e vecchi della politica che dà priorità alle nuove forze e all'esperienza sul territorio. E' stata così presentata la nutritalista del Partito Democratico che correrà le prossime elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del comune dell'Aquila e in appoggio ad Americo di Benedetto. Bilanciare l'esperienza di questi anni, delle persone che sono state in prima linea nella lotta per il diritto alla ricostruzione con l'amministrazione excelente, quindi alcuni nostri assessori uscenti, consiglieri uscenti affiancati da candidature di forte rinnovamento. Noi abbiamo diverse candidature sotto i 35 anni, molte sotto i 30. E' un momento difficile quello che sta vivendo la città. In particolar modo l'ultimo sciamesismo sismico ci ha ripiombato in un incubo. Ma crediamo che questo sia il tempo nel quale raccogliere i frutti dell'impegno che abbiamo investito negli anni alle nostre spalle. Correrà da indipendente nella lista del PD anche Fabio Pelini, già assessore di rifondazione comunista nella giunta Cialente. Una scelta in controtendenza che ha sollevato non pochi interrogativi. E' il segno di una squadra che ha governato in questi anni e che è abituata a essere al proprio interno solidale e generosa. Abbiamo avuto diversi momenti anche di contrapposizione e di dialettica interna anche forte. Con Fabio Pelini e con rifondazione spesso per esempio sulle tematiche ambientali dello sviluppo al Gran Sasso. Ma sempre questioni che sono state poi ricondotte a sintesi nell'interesse del bene della città. Sempre sul messaggero e restando all'Aquila, riappropriamoci delle mura antiche. L'appello di Sandro Zecca, ancora per molti tratti la cinta è chiusa o bloccata da cancelli, giardini e porzioni di case. Un esempio di fortificazione trecentesca, unico in tutta Europa in quanto a lunghezza. E' stato di conservazione, sarebbe ora necessario un intervento per regolamentare dove si può la situazione. Avanti andiamo in Marsica, fiera Marsi, arriva anche la perdonanza che è armessa del commercio. Ci saranno pure le giornate ovidiane di Micco. Dice turismo provinciale in un'atmosfera di collaborazione unite le forze per un progetto innovativo che supera antiche rivalità. Appuntamento fissato dal primo al 4 di giugno. Saranno presenti ambasciatori, consoli e imprenditori provenienti da tanti paesi del Mediterraneo. Pagine di Chieti, nuovo rettore, urne aperte da stamattina in 1043 al voto. Per vincere la prima tornata serve il 50% delle preferenze più una. In sei ambiscono allo scranno più alto. Seggio unico allestito all'auditorium. Difficilmente oggi si avrà il vincitore. Altri appuntamenti domani e giovedì. Venerdì l'eventuale ballottaggio. E poi ancora competizione molto sentita dopo le vicende giudiziarie della vecchia governance. A proposito, non violò la privacy dei dissidenti. Assolto l'ex DG, Filippo Del Vecchio. Asle obbedisce ad Alfonso. Top Project decide la regione dopo la diffida trasmessi gli atti sul nuovo ospedale ed esautorato Manci. Febbo parla di un epilogo inimmaginabile. E poi ancora pizza, campionato del mondo, secondo posto per un teatino. Si tratta di Andrea Trovarello, qui ritratto nel tondo. Andiamo a pagina 43. Sala emodinamica, 15.000 firme. Mobilitazione dei cittadini di tutto il comprensorio per richiedere la nuova struttura dell'ospedale San Pio. Un apparato capace di arginare la mortalità cardiaca. Questa è una delle principali cause di decessi nel territorio. Le pagine di Teramo, acqua, la diffidenza resta sovrana, nessuno beve, quella del rubinetto, lo sversamento del toluene, le assicurazioni non convincono, tante cose nei supermarket, Movimento 5 Stelle e Movimenti, la proroga della concessione è tecnicamente impossibile. Il presidente della provincia di Sabatino ha convocato per venerdì un tavolo tecnico con tutti i sindaci. E poi ancora nasce la mensa solidale nei locali del mercato coperto, gestione Azzu, gli studenti distribuiranno i pasti alle famiglie bisognose. E poi sulla costa Giulianova la fondazione conferma i posti di lavoro, riunione in comune con il presidente Enrico Salvatori e i dipendenti precari interessati, subito due mesi di proroga. Incontro in provincia per il caso Giplast, a breve l'affitto di un ramo d'azienda alla Betis con la continuità di produzione. E' nato intanto lo sportello del lavoro con cinque comuni. Lasciamo il messaggero Abruzzo, andiamo a sfogliare ora le pagine della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Siamo a pagina 3, la crisi dei rubinetti, l'uomo dell'acqua ha detto sì, Lolli rassicura, probabile per il Ruzzo la proroga alle captazioni sotto il Gran Sasso. La ASL smentisce di aver avviato un procedimento nei confronti della Marconi, ma lei invece conferma. E poi ancora il dossier Ruzzo, le prime captazioni, il grande pisciarellone, come negli anni 10 e 20 del Novecento i sindaci e le popolazioni di Terramane avvierono la costruzione dell'acqua edotto, una gigantesca infrastruttura civile, igienica e sanitaria in una provincia malsana e assetata. Primi ostacoli e contrasti dal Duce al traforo, terrenovela, puntate dell'acqua che beviamo attraverso un secolo di scelte buone e cattive. Avanti con la politica. Tancredi straccia il velo di ipocrisia sulla crisi. A muovere i dissidenti ci sarebbero solo interessi personali, legittimi ma biecchi se mascherati da falsi moralismi. Se non vuoi più fare parte della maggioranza perché il centrosinistra ha trovato lavoro a tuo figlio, me lo devi dire. Queste le parole del parlamentare Tancredi. In maggioranza prosegue, ci sono persone sistematicamente coerenti nel farsi i cavoli loro. Lo dicano, altrimenti sarò io a farlo a fine consigliatura. E poi in basso, con i pasti non consumati di unitè, apre la mensa solitare dell'Azzu nella nuova struttura al mercato ortofrutticolo di Piazza Verdi. Lavoreranno come volontari gli studenti. Il servizio della nostra redazione Terramana. Nasce a Terramo una mensa solidale dove ogni martedì e giovedì dalle 19 alle 20 saranno distribuiti pasti sigillati e più bisognosi. L'iniziativa dell'Azienda per il diritto allo studio di Terramo, in collaborazione con l'Università e il Comune di Terramo. Il servizio di distribuzione del cibo, che arriva direttamente dalla mensa dell'Ateneo Terramano, sarà svolto dagli studenti universitari volontari nei locali in via Stazio, nello storico mercato della verdura. È un percorso che abbiamo pensato con il rinnovo della mensa dell'Azienda, dell'Università, che in collaborazione con la cooperativa che ha vinto la gara e che gestisce la mensa universitaria, abbiamo pensato di fare a valle e per ottimizzare l'utilizzo e non limitare o annullare del tutto lo spreco alimentare, di creare a valle di questo percorso della gestione ordinaria anche una mensa solidale. Come funzionerà? Abbiamo acquistato una sigillatrice che porterà e sigillerà dei pasti all'interno delle vaschette che poi verranno trasportate dalla mensa centrale, dalla cucina dell'Università, presso l'Università che abbiamo come azienda, verrà trasportato qui e quindi con volontariato di ragazzi e studenti unite sarà distribuito a chi ne ha bisogno. Quanti passi pensate di poter distribuire ogni giorno? Noi pensiamo che inizialmente ci siamo orientati su una cinquantina, poi vediamo come ci adegueremo, non abbiamo grandi limiti, nel senso che noi distribuiamo circa 600 pasti al giorno, quindi non abbiamo grandi questioni, possiamo anche aumentare e calibrarlo in relazione all'attività e a quello che saranno le richieste. Durerà per tutta l'estate? Seguirà le pause dell'Università, quindi le pause estiva, la pausa natalizia e la pausa di Pasqua. Il contributo del Comune è quello di aver messo a disposizione e di questo bisogna ringraziare veramente gli uffici tecnici, in particolare l'assessore Fracassa che si è adoperato per trovare un locale che potesse essere idoneo per accogliere un'iniziativa di questo tipo. A che fine farà questo mercato coperto? Avete pensato di ristrutturarlo? Oddio, adesso vediamo anche se c'è qualcosina per il terremoto, tanti progetti ci sono, questa è un'area che in questi momenti quando li visitiamo ci rendiamo conto che hanno bisogno di una manutenzione più che straordinaria. La mensa solidale del Lazzu di Teramo, oltre ad essere una lodevole iniziativa di solidarietà, potrebbe rappresentare un primo passo verso una riqualificazione culturale, prima ancora che urbanistica, del mercato della verdura di Piazza Verdi. Una struttura degradata in pieno centro storico che ha bisogno di un recupero immediato. Sempre sulla città, l'alternativa alla funivia ce l'hanno bocciata. Il sindaco Brucchi replica la provincia con l'osservazione condivisa destinata alla ciclovia del Tordino. L'opposizione di centro-destra va all'attacco, siamo sempre all'interno della politica terramana. I consiglieri usciti della maggioranza incalzano su verde pubblico piano traffico e pulizia delle frazioni. E poi ancora, la leader delle BCC sceglie la riforma con i Crea. Castiglione Messaremondo e Pianella si prepara alle novità con conti in ottimo stato e una governance confermata. A Tortoreto, in vista delle prossime elezioni comunali, Di Matteo riparte da scuola a sicurezza e dissesto. L'ex sindaco presenta la sua squadra e il programma in vista delle elezioni. Siamo già al lavoro per cercare di reperire i fondi europei e ministeriali necessari per la realizzazione del polo scolastico. A Giulianova, la lite sugli eventi arriva in consiglio. Ciafardoni, assurdo che l'assessore al turismo non abbia voce in capitolo. Nonostante la bella stagione sia ormai alle porte, ancora non è arrivato nulla di concreto. E qui siamo a Pineto, sgominata la banda dei furti agli anziani, quattro romeni in manette a Pineto dopo un blitz della squadra mobile. Il 9 maggio scorso hanno rubato un Rolex da 5.000 euro ad un 73enne di Pescara. Poi ancora andiamo alle pagine dello sport per il calcio, play-out, poi il futuro. 12 giorni indiavolati, la doppia sfida con Lumezzane e nel frattempo le trattative con San Nicolò per l'eventuale collaborazione sportiva. La squadra di Ugolotti ritrova il suo impianto dopo essersi allenata negli ultimi giorni al Fonte dell'Olmo di Roseto, iniziata la prevendita dei biglietti per la partita di domenica prossima. Quindi da oggi il terreno torna ad allenarsi al Bonolis. Serie D, Costantino senza pietà, la vispesa o rinterrompe il sogno del San Nicolò, una rete dell'ex della gara permette ai marchigiani di accedere alla finale di domenica contro l'Agnonese. E per il basket, impresa e Tomilu, Giulianova centra la salvezza e il custaranto deve arrendersi ai giallorossi di Francani, che centrano la meritata permanenza in Serie B. E invece per quanto riguarda i play-off di Serie B, la Globo Campli sfiora il colpaccio, ma si arrende a Barcellona e i farnesi escono battuti all'overtime dalla trasferta siciliana, proprio quando la gara sembrava già al sicuro. Lasciamo la città, veniamo alle pagine dello sport del centro, dove c'è ancora una vasta eco che riguarda la tappa del blockhouse, la tappa abruzzese del Giro. Dopo il blockhouse si candida Francavilla, l'anno prossimo potrebbe ospitare un arrivo di tappa. La corsa di domenica ha lasciato il segno sia sulla classifica generale che tra gli addetti ai lavori, i quali hanno applaudito l'organizzazione. Al di là di qualche smagliatura, il DS della Nippo Vinifantini Giuliani, complimenti a Formichetti per come ha allestito la tappa. Occhio, non date per spacciato, Nibali e poi la Marcord di Moser. Oggi il colombiano Quintana dovrà difendere la maglia rosa conquistata alle pendici della Maiella nella cronometro di 40 chilometri che vede favorito il francese Dumoulin. In basso a giugno arriverà il Giro d'Italia Under 23, due partenze da Francavilla, la prima per Casani in contrada, la seconda per Campo Imperatore. C'è anche l'applauso del CT Cassani, uno spot per l'Abruzzo, dice Davide Cassani. Per il calcio, il futuro del Pescara, Zeman, vogliamo tornare in Serie A. La società intende costruire una squadra in grado di lottare per la promozione. L'allenatore si rilassa a Milianico, giocando a golf con l'ex patron De Cecco. Fa discutere la scelta dei calciatori che hanno chiesto scusa ai tifosi per il cammino disastroso. E poi il baffo del Delfino di Antonio Deleonardis, caccia all'errore se si vuole ripartire. Per la Lega Pro, Teramo Lumezzane che Valzer Lega Pro, ognuna delle due squadre, ha avuto tre tecnici in panchina. L'Aquila sogna con il calcio e il rugby. Domenica alle finali play-off, rosso-blu a Rieti senza per uso squalificato. Nero-verdi a Parma contro i Medicei. Si giocheranno il ritorno in eccellenza. L'attaccante è fermato dal giudice sportivo per le tensioni post partita con il commissario di campo. I lazieri dicono no alla richiesta di anticipare la sfida al sabato. Lo spareggio allo stadio Lanfranchi. Parliamo qui di rugby, dove nel 2014 gli aquiliani hanno già conquistato una promozione. I tifosi si stanno organizzando con un pullman. E poi ancora per il basket. Basket di A2 dopo il blitz di Roseto sul campo della Virtus Bologna. Le parole di coach di Paolo Antonio. Vai Roseto, voglio il bis. Stasera al Paladozza di Bologna per tentare un altro colpaccio con la gara 2 dei quarti di finale di play-off. Rapidissimamente anche sul messaggero andiamo a vedere le pagine dello sport. Ecco il Pescara che verrà. Zeman si vuole puntare subito al ritorno in Serie A. Mancuso e Proietti hanno già la benedizione del tecnico. Brugman, Benalì, Zampano, Biraghi e Vittorini potrebbero essere ceduti per fare un buon incasso. E poi anche sul messaggero si celebra il Magic Moment dello sport aquilano. Per il calcio c'è il capolavoro di Battistini con l'accesso alla finale play-off a Rieti. Una grande pagina dello sport, dice il messaggero. E poi l'Aquila esulta per la finalissima domenica. Parma in paglio l'eccellenza contro i Medicei Toscana. Tifosi al seguito. Per il calcio di Serie D San Nicolò. Per il futuro si aspetta il Teramo. Deruso il patron Di Giovanni. Volevo un finale diverso. E per il basket Roseto sogna in grande spallata alla Virtus. Il patron Cimo Rossi dopo il clamoroso successo in gara 1. Avevo previsto tutto. Questa è la vittoria di tutto un popolo. E Chieti invece tanta voglia di riscatto con Forli dopo il primo passo falso. Appuntamento al Palatricalle alle ore 21 per gara 2 dei play-out. Finiamo qui la rassegna stampa di mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari. Il Tg6 delle ore 14, quello delle ore 19 e quello delle ore 23. Poi questa sera alle ore 21 la trasmissione Pro Teramo curata e condotta da Jacopo Forcella con la settimana che porta alla gara d'andata di play-out per il Teramo in quel di Lumezzane. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia. Grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti.